Ciao a tutti, cari amici e amici del signor dello Scorpione, ben ritrovati in mia compagnia. Stiamo qui oggi per conoscere le vostre previsioni dal 3 al 9 ottobre 2022. Grazie per seguirmi sempre, se vi va lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Vi ricordo che queste sono energie generali, non possono valere per tutti, ok? Ok, benissimo, incominciamo a capire quali sono le energie per i rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Vediamo un attimino, concentriamoci. Abbiamo la carta del 3 di acqua, poi vado a pescare una carta del Metarocchi. vediamo per i rapporti interpersonali, per lo Scorpione. Il Cavaliere di Coppe, wow, c'è energie comunque dell'acqua, quindi sicuramente una settimana molto importante e decisiva dal punto di vista emozionale, dal punto di vista sentimentale, anche per chiarire a voi stessi, in primis, ma anche con le altre persone o una persona in particolare, dipende ovviamente dalla vostra situazione, quello che sentite, quello che provate appunto nei suoi confronti. Ma andiamo avanti, eh, andiamo avanti. Qua per i single potrebbe esserci comunque un incontro, perché abbiamo questo Cavaliere di Coppe, ok? Potreste anche essere invitati a, non so, una laurea o a un matrimonio, oppure sposarvi voi. C'è comunque area di festeggiamento, di celebrazione con i vostri amici, con la vostra famiglia. Festeggerete anche un qualcosa di molto importante con la vostra famiglia. E vi divertirete anche con i vostri amici. Andrete a delle feste, andrete in discoteca, ok? Potrebbe esserci anche la nascita di un pargoletto. Apatia e demotivazione. Ok, vado, andiamo avanti. Vado ad inaugurare anche il mio Oracle Belline dell'Età Romain. Questo mazzo molto molto bello, molto intenso. Abbiamo la carta del traffico, carta numero 23. In alcuni momenti, anche se fondamentalmente va tutto alla grande da puntista, amoroso, d'amicizia, però vi sentite demotivati. Anche demotivati nel portare avanti un rapporto. Ripeto, nonostante i sentimenti di base ci siano e siano molti, molto intensi. Anche perché fondamentalmente voi amate l'altra persona, e in questo caso per quanto riguarda le coppie, e vi divertite insieme all'altra persona. Siete complici, siete tra virgolette amanti, siete amici nello stesso momento. Però nonostante tutto, probabilmente sarà una settimana demotivante, un po' apatica, sofferente in parte, e questo potrebbe andare a intaccare i vostri rapporti. Però tutto passa, ok? Perché, ripeto, non concentratevi troppo sulla vostra demotivazione, sulla vostra apatia, ma concentratevi su quello che voi potete offrire all'altra persona, e viceversa, sia in amore, sia in amicizia, sia in campo, appunto, di famiglia. Qua con questa carta del traffico ci sono varie interpretazioni. Potresti incontrare anche questa persona, che potrebbe essere un seno d'acqua, cancro, scorpione o pesce, oppure portarne l'ascendente in uno di questi segni. La potresti incontrare o durante un viaggio, oppure qui mi parla anche di, non so, chat di incontri, di internet. Quindi potresti avere, almeno all'inizio, uno scambio con questa persona, attraverso i social network, ok? Oppure attraverso le chat di incontro. Però qui c'è comunque un contatto che avrete con questa persona. Però mi raccomando, il contatto in primis dovete averlo con voi stessi, per capire determinate cose su uno o più rapporti. Qua però c'è area di festeggiamento, di celebrazione, nonostante questo, diciamo, mood apatico che voi avete, soprattutto nei vostri confronti, ok? Però mi raccomando, non fatevi perdere delle occasioni di incontro veramente molto molto belle. Ma proseguiamo con l'area professionale ed economica. Andiamo a pescare altre quattro carte. Qui comunque, se c'è, ci sono dei contatti. Potrebbero esserci anche dei ricontatti. Quindi una persona che, magari, con la quale avevate interrotto i rapporti, potrebbe ritornare a voi. Vediamo un attimino di andare avanti, invece, per quanto riguarda la sfera lavorativa e economica. Abbiamo i sette di fuoco. Ok. Qua vado a tirare un pochettino su, almeno vedete meglio le carte. Qui, da pontista al lavorativo, dovrete difendere le vostre convinzioni. Se c'è un qualcosa che non va nel lavoro, dovete farlo presente prima che sia troppo tardi. Non dovete cedere, assolutamente. E poi, è importante, come dice questa carta, scegliere le vostre battaglie in modo saggio, in modo intelligente. Se avete capito che è inutile parlare, comunicare con quel collega, con quell'azienda, con quel datore, perché hanno, diciamo, una veduta completamente diversa, anche in parte distorta, di una situazione dinamica, lasciate stare, prima di creare, diciamo, uno scompenso, che poi potrebbe andare anche a vostro svantaggio. È importante, ovviamente, non farsi mettere i piedi in testa. Quindi, se c'è per caso qualcosa che non va, da pontista al lavorativo, magari un capo che pretende fin troppo da voi, anche se voi state dando il 200%, dovete cercare di dire questa cosa. Dovete, ripeto, difendere le vostre opinioni e le vostre decisioni in maniera, ripeto, composta, in maniera decisa, ok? E non cedere mai, ok? Questo è il messaggio per voi, per questo sette di fuoco. Abbiamo il Papa. Qua c'è di mezzo un intermediario, un'istituzione, una persona che potrebbe consigliarvi cose importanti, eh, per quanto riguarda l'ambito economico e l'ambito lavorativo. Proprio un consiglio che riceverete. Potrebbe essere anche la cosiddetta agenzia per il lavoro, per trovare un nuovo lavoro. Ok? Vediamo ad andare avanti con la terza carta. Abbiamo la carta Ampliare gli orizzonti. Beh, qui alcuni di voi vogliono guardare, vogliono guardarsi intorno, perché sì, va bene non cedere, va bene difendere a spaziatratta le vostre convinzioni, le vostre opinioni, però dopo un certo punto la pazienza comunque ha un limite. Voi di pazienza ne avete fin troppa. Quindi vi guarderete avanti anche grazie a questa istituzione, a questo consigliere, a questo intermediario per cercare di trovare un qualcosa più affine a voi che sicuramente vi porti maggior gratificazione del lavoro o dell'attività che state svolgendo durante appunto questi mesi o che vi portate avanti da diversi anni a questa parte. Ok? Qui volete guardare comunque oltre. Ma vediamo un'altra carta dell'Oracle la belline. Abbiamo la carta del regalo. Qui comunque sia potrebbe esserci un'offerta di un nuovo lavoro che potrebbe comunque giungere a voi. La carta del regalo è una carta anche di una ricompensa di soldi che giungeranno a voi un premio dei soldi che comunque devono arrivarvi che magari durante questa settimana o durante il breve periodo vi arriveranno. Comunque qua riceverete qualcosa sia da puntista monetario sia proprio come bene tangibile. Mi raccomando sempre nella sfera professionale e economica. Ma ora procediamo con l'ultimo messaggio molto molto importante per ciascuno di voi del sello scorpione vediamo che cosa vogliono dirvi le mie carte. allora vediamo un altro messaggio importante ed è questo sei forte coraggioso sai farti valere infatti l'abbiamo visto qua soprattutto con questo sette di fuoco non hai paura di quello che potrebbero pensare di te le altre persone quindi ve ne frega poco o niente di quello che esprimeranno durante questa settimana soprattutto in ambito lavorativo le altre persone perché voi siete convinti che siete nel giusto e lo siete ok quindi siete comunque determinati a portare avanti queste vostre battaglie a testa alta e c'è comunque area di vittoria ok non solamente a puntista lavorativo ma anche nelle altre aree della vostra vita ok benissimo cari amici vi aspetto sempre qui sulla ciao a tutti e alla prossima